ciao in questo video impareremo a realizzare uno stampo un po più grande del solito circa 80 centimetri per facilitare la comprensione del procedimento anche visivamente seguiremo la stessa linea dello stampo originale osservabile sulla superficie dell'oggetto questa scultura a diversi sottosquadri e mentre parte di essi verranno utilizzati come chiavi di registro il grosso delle cavità andrà riempito per rendere possibile la stampata ecco i materiali che utilizzeremo plastilina degà 30 rigida ma quando viene lavorata con le mani abbastanza d'utile rtv tixo gomma per policondensazione tixotropica gsp 400 gomma siliconica plasmabile plastoforma componente a in polvere e b liquida fibra di vetro quadri a sale guarda i video specifici per ulteriori informazioni su questi prodotti o consulta le schede tecniche sul sito www.prochima.it si inizia con la plastilina ricalcando la linea in cui si vorrà dividere lo stampo è importante che ci sia una buona adesione tra la plastilina ed il modello scaldare quindi molto bene fra le mani e sfumare con le dita immaginando la linea come un piano che attraversa e divide in due l'opera continuare tappando anche tutti i fuori passanti che renderebbero impossibile rimuovere il futuro stampo l'idea è creare una flangia di qualche centimetro e abbastanza spessa perché si autosostenga con uno strumento a scelta rimuovere o lavorare il materiale per ottenere un angolo pulito tra la flangia e la parte dell'opera trattata per prima una volta soddisfatti si procede creando alcune chiavi utili a riconoscere il futuro posizionamento ottimale delle due parti dello stampo sia per rimuovere le imperfezioni dalle chiavi che per lisciare la flangia si utilizza un pennello e del diluente è giunto il momento di preparare il silicone agitare bene il contenuto del catalizzatore per questa dimostrazione video utilizzeremo due varianti colore azzurro chiaro e blu tuttavia il blu è il colore che troverete nel vostro acquisto come da etichetta rtv tixo va dosato al 5% viste le dimensioni utilizzeremo l'intero quantitativo già preparato un chilo di prodotto ogni mano mescolare bene fino ad ottenere un unico colore omogeneo tixotropico significa che la viscosità di questo silicone gli permette di venire applicato in verticale con un pennello accompagnare il prodotto in ogni punto della superficie curando incavi ed assicurandosi di comprendere anche la flangia che prolungheremo idealmente anche sulla superficie di appoggio unico colore azzurro unico colore unico colore Lasciato riposare due ore a 25 gradi il silicone non ha finito la catalisi ma ha perso di viscosità Tempo per la seconda mano Questo è il blu originale di TRV Tixo Applicare una seconda mano omogenea Il composto si fa più denso e con pennello e spatola si può perfezionare quanto desiderato GSP 400 va miscelata anch'essa al 5% cioè ogni 100 grammi di A vanno aggiunti 5 grammi di B Anche in questo caso il segreto è ottenere un unico colore omogeneo dall'impasto In questo caso verrà utilizzata per riempire i forti sottosquadri che impedirebbero alla forma madre di dividersi dallo stampo siliconico I due siliconi hanno basi simili e si fonderanno senza problemi Dopo poco più di un'ora la gomma plasmabile si è stabilizzata ed è tempo per una terza mano di RTV Tixo viene applicata per inglobare e rubostire tutto Se necessario acqua saponata con sapone dei piatti e pennello sono utili a lisciare la superficie del silicone Lasciare riposare 24 ore Per la forma madre utilizzeremo plastoforma Ogni 100 grammi di polvere A vanno aggiunti 40 grammi di liquido B Mescolato nelle parti 140 restituisce un materiale simile al gesso ma con una maggior percentuale di elasticità Tagliato il pannello di lana di vetro in strisce più facilmente lavorabili procedere gessando l'oggetto Applicare prima del prodotto sul silicone e poi premere le garze in posizione Prestare particolare attenzione alle flange e alle parti più nascoste e meno visibili Due strati di rete dovrebbero essere sufficienti Grazie a tutti i nostri spettatori 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 Per eliminare asprità sulla forma madre, quando Plastoforma inizia a rapprendersi, con una spugna e l'acqua tiepida si può allisciare la superficie a piacimento, dopodiché lasciarla riposare 24 ore.